Ciao papà Ciao mascazzone, come stai? Vi fai trovare la macchina in ordine come mi avevi promesso? Ma scusa, ma di che sta parlando? Marcello, della convertibile ed epoca di suo padre La convertibile ed epoca? Sì, sì, doveva badare alla sua manutenzione, se lo ricorda? Gliel'aveva promesso Io gliel'avevo promesso? Sì, gliel'aveva promesso È la fine Allora facciamo così, io penso al lavoro e i pezzi ci pensiamo E adesso mi serve un po' di tempo Tempo, tempo, non ce l'abbiamo il tempo Incredibile Dai, entro Senti Lo stacco se ne ha partito un giro Domani arriva mio padre Mi raccomando Tu pensa a lui Sì E alla sorpresa ci penso io Guida tu Sì Sì Sì